Ci sono alcune strategie utili nella vita quotidiana, professionale. Quando hai davanti una persona che devi curare ricordati di creare un'alleanza terapeutica. L'alleanza terapeutica è quello strumento che ti permette di condividere pensieri, strategie e opinioni rispetto alla malattia che ha la persona che tu hai in cura e che devi curare. E per fare questa alleanza terapeutica ci sono alcune strategie utili nella vita quotidiana, professionale. Quando arriva una persona da te in ambulatorio, alzati e accoglila, falla sedere e spiegale quello che sarà la visita. Se hai una persona che già conosci, tu inizi il discorso chiedendo se ci sono delle domande rispetto a quanto è emerso la volta precedente. Se hai una persona che non conosci e che devi imparare a conoscere, chiedile se sa il motivo della visita che state facendo, conducendo. Come mai è venuta da te? Che cosa ha capito della sua situazione? Quali sono i suoi dubbi, le sue perplessità? Sei preoccupata di questa visita? Che cosa puoi fare tu per metterla a suo agio? Puoi spiegare esattamente per filo e per segno come condurrai la visita. Quindi in questo primo momento le faccio delle domande per conoscerle, per capire chi ho davanti. Poi dopo la visiterò e farò questo, questo e quest'altro. Poi alla fine della visita valuteremo che cosa proporle e quale possa essere possibile percorso. Se hai una persona che vi dice che è andata da tanti altri medici, da tanti altri vostri colleghi, potete chiedere dove è andata, ma vi consiglio di non chiedere i nomi delle persone e dei colleghi precedenti. Questo perché la persona potrebbe essere in difficoltà nel darvi il nome, a meno che voi non riteniate importante per la relazione terapeutica, per la conduzione del vostro colloquio, è importante conoscere i nomi dei colleghi. Però dovete stare attenti perché a volte potreste sentire dei nomi di colleghi che voi non stimate. Quindi avete davanti una persona che è andata anche da questi medici. Se sono colleghi che voi non stimate, io vi sconsiglio di dire che sono andati da dei professionisti che non stimate. Perché? Perché la persona ha investito tempo e denaro per andare dai colleghi. E allora voi le state dicendo che tutto quello che ha fatto fino a quel momento è stato inutile, se non addirittura, anzi di sicuro, le è costato, perché nel tempo il denaro ha un uguale valore, l'uno è misurabile, l'altro non misurabile, ma ha la stessa importanza. E quindi è come svalutare una persona delle sue scelte. Quindi se scegliete di avere il nome di quell'altra persona è perché ne avete bisogno e non per pettegolezzo o non per criticare il collega. Poi quando voi state raccontando, spiegando, parlando alla persona che avete davanti, ricordatevi sempre di interrompervi ogni tanto chiedendo se voi avete spiegato bene, in modo efficace, se è comprensibile quello che state dicendo, perché a volte succede, sa, mi dispiace, ma a volte può capitare che io pensando di spiegarmi bene in realtà non lo stia facendo. Quindi se lei mi fa delle domande e mi interrompe là dove io mi sono spiegato male, mi sta aiutando a condurre insieme a lei questo colloquio. Un altro elemento importante è pensare a quello che state provando mentre parlate con l'altro. Non siate una macchinetta, non andate avanti a parlare perché dovete arrivare da qua a qua. Prendetevi il tempo necessario per capire se l'altro sta capendo, capire quello che voi state dicendo, capire quello che voi state provando, capire anche quello che l'altro sta provando. Quindi potete interrompere la conversazione su quello che dovete fare voi e chiedere all'altro, vado avanti, le spiego meglio a seconda di quello che dovete spiegare. È chiaro fino a qua quello che ho spiegato? Come si sente rispetto a quello che le ho detto? Perché ci sono delle diagnosi molto pesanti da ascoltare e a volte il medico va avanti nella spiegazione perché deve andare da qua a qua e non si ferma nel chiedere alla persona che ha davanti, che ha in cura, che deve curare al meglio delle sue possibilità e capacità, non si ferma a chiedere come sta. Le ho appena detto che lei ha un tumore di questo tipo. Come si sente a questa notizia? Fermarsi, darsi il tempo e dare il tempo all'altro di respirare rispetto alla pesantezza della notizia permette all'altro di sentirsi accolto e quindi di ragionare su quello che voi state dicendo a lui in quel momento. Questa è la cucina dei pensieri, è il luogo virtuale dove noi diventiamo reali, io e voi, attraverso quello che ci diciamo nei miei video e nei vostri commenti. Siate efficaci nella vostra scrittura, aiutatemi ad ampliare e allargare il nostro ragionamento in modo che possa essere utile a voi che scrivete e a chi vi leggerà. Vi aspetto nei vostri commenti, vi ringrazio per l'attenzione e questi video che sto facendo sulla relazione medico-persona in cura sono quello che mi avete chiesto e spero di farlo nel miglior modo possibile. Buon lavoro!